E' stato posto sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Salerno agli ordini del comandante Antonio Corvino il cantiere nel quale ieri si è verificato un incidente sul lavoro. Sigilli al capannone in via Stefano Brun numero 5 nella zona industriale di Salerno dove un piccolo imprenditore edile, un uomo di 61 anni originario di Pagani, era intento ad effettuare dei lavori probabilmente in subalpatto quando avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto da una scala facendo un volo di 5 metri. La dinamica e i dettagli restano ancora tutti da chiarire perché i carabinieri e gli uomini dello Spesal, il servizio di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, hanno iniziato a lavorare soltanto nel tardo pomeriggio di ieri quando è arrivata la denuncia dell'incidente. La caduta però si era verificata dopo le 6 del mattino nel cantiere, l'uomo alle 7.30 di ieri era già stato sottoposto ad un intervento chirurgico di urgenza presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno dove è stato necessario asportargli la milza e dove resta ricoverato in gravi condizioni con lesioni alla colonna vertebrale. La vittima si trova ora nel reparto di rianimazione affidato alle cure del dottore Renato Gammaldi, la prognosi resta riservata, tutto da chiarire cosa sia accaduto. Resta l'amara constatazione che il lungo elenco di incidenti sul lavoro scritto dall'inizio dell'anno sul territorio della provincia di Salerno deve registrare questo ennesimo episodio. Grazie Grazie